Importante il risultato. Sì, sì, questo è vero. Per noi oggi è molto importante questa partita. Tre punti importanti perché la squadra Fiorentina è molto forte. Io sono molto contento perché oggi ho giocato il mio nuovo posto. Come ti sei trovato? Primo tempo per me no, no va bene. Io sono un po' arrabbiato. Melio secondo tempo perché io tranquillo. Primo tempo molto nervoso, pochissimi errori. Questo io ho bisogno tanto parte di questo gioco, il mio gioco è questa nuova posta. Ecco, per quelli che sostenevano che eravate un po' stanchi, oggi avete dato una bella risposta. Stanchi, non capite la risposta. Stanchi, cioè fisicamente un po' giù? Sì, siamo tutti stanchi però oggi vincere questa stanchezza a cuori io sono contento. Senti, avete superato il Milan. Siete qui in classifica, tre punti della Fiorentina. A questo punto è d'obbligo credersi, no? Sì, 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 questo è bene perché avviciniamo Fiorentina e oggi perso a Milano a vincere Sampo. Secondo me noi tutti abbiamo, noi pensiamo prossima partita perché è molto molto difficile la partita fuori contro Siena. Siena è anche forte squadra e io penso, secondo me, bisogniamo tre punti. Grazie a tutti.